Il grano era sacro e quindi anche il canto e la danza riveste carattere sacro. Pensate un po' ai nostri braccianti agricoli quando lasciavano le colline verdeggianti e si avventuravano lungo i tratturi, quello di Sansevero che partiva appunto dagli Abruzzi per andare a mietere il grano precoce della Puglia, della questa danza. Vedete come è trascinante, come è patetica e gioiosa nello stesso tempo perché i contadini soffrivano ma erano veri poeti, veri musicisti. Ecco per voi Ubal e il coro dei miei editori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Genitori, fare o non fare questo contratto.